questa è tendenzialmente la consistenza che noi vogliamo non deve essere troppo liquido quindi non mi deve non deve colare acqua nel momento in cui io lo schiaccio comunque lo metto in dei bidoni in forma anaerobica e questo mi genera e fa sì che i microrganismi che sono aerobici inizino a sporare perché si sentono in pericolo di vita nel momento in cui mentre quelli che sono anaerobici continueranno a riprodursi nutriendosi dallo zucchero e dal farinaccio dalla pula e quindi nel momento in cui poi dopo un mese avrò lasciato passare il periodo di fermentazione quello che estrarrò sono è una concentrazione di microrganismi questi microrganismi li posso utilizzare sia per arricchire i compost che preparerò adesso vi faccio vedere sia per fare invece biofertilizzanti foliari e anche di questo ne parleremo la rimineralizzazione dei suoli tramite polveri di roccia appunto era quello che un pochino ho anticipato quello che fanno le polveri di roccia e propiziare le condizioni fisiche chimiche e biologiche favorevoli al metabolismo e all'autopoiesi dei microrganismi ciò che invece non viene dato e le condizioni che non vengono date dall'agricoltura industriale e nelle polveri di roccia esistono diversi minerali che con l'ausilio i diversi microrganismi diventano disponibili per le piante formando un solo ricco di nutrienti quindi ci saranno microrganismi che sono specializzati nell'assimilazione di determinati minerali per questa ragione noi vogliamo cercare di dare una diversità di microrganismi e allo stesso tempo una diversità di minerali il compostaggio degli degli scarti aziendali può essere fatto in vario modo un compost che noi utilizziamo e che ci ha dato sempre risultati importanti e il boccasci boccasci vuol dire fermentazione un preparato pre fermentato quindi è un compost che si riesce a elaborare ed è pronto dopo 15 giorni anche se non è maturo noi quello che faremo è dare al terreno un compost ancora non completamente maturo per far sì che sia la microbiologia del suolo ad attivarsi e allo stesso tempo poi a poter nutrire le piante il boccasci viene fatto da diversi ingredienti e questi ingredienti non vengono scelti a caso bensì ognuno ha una sua funzione quindi tendenzialmente è una volta che l'agricoltore il contadino l'imprenditore agricolo ha capito la funzione dei vari elementi potrà decidere di modificare il suo compost in base alle necessità e le caratteristiche del suo terreno quindi il boccasci viene fatto con paglia che fondamentalmente sostanza organica ricca di carbonio terra che serve e che ha la funzione poi di amalgamare tutti gli altri ingredienti e di più è l'habitat in cui si riproducono lo sterco che ci apporta la microbiologia animale per questo nel boccasci più utilizziamo sterco di animali diversi meglio è perché ogni animale avrà dei microrganismi al proprio interno che sono diversi dopodiché il carbone che il carbone ha una diverse funzioni ed è molto molto importante perché uno trattiene l'umidità diminuisce e ammortizza quelli che sono gli sbalzi di temperatura tra il giorno e la notte sbalzi di temperature che sono dannosi e che sono hanno degli impatti delle conseguenze molto forti sul sulle radici e di più è ospita e quel quel quell'ingrediente un po come se fosse la casa i microrganismi no è in grado di assimilare come spugna ritenere sia l'acqua che i microrganismi dopodiché viene messa cenere o polvere di roccia polveri di roccia spesso ci viene chiesto che polvere di roccia allora se uno ogni minerale che cioè ogni le rocce sono composte da minerali e rocce di colori diverse vuol dire che hanno al loro interno minerali diversi ogni minerale è rappresentato da un colore quindi se noi abbiamo rocce di diversi colori e le misceliamo tra di loro sappiamo che apporteremo minerali diversi allo stesso tempo sappiamo e si sa che le rocce vulcaniche sono quelle più ricche in assoluto di minerali quindi se si riesce a avere accesso a polveri di rocce vulcaniche oa rocce vulcaniche e poi si moliscono si creano le condizioni ideali per apportare la diversità minerale al compost oppure la cenere cenere comunque sia un grandissimo apporta grandi quantità di minerali dopodiché anche qua metteremo lo zucchero che sempre l'elemento che l'energia per i microrganismi e microrganismi piace parecchio lo zucchero si nutrono e si rafforzano con lo zucchero lievito che quello che permette la fermentazione e fa partire la fermentazione e poi l'acqua pula di riso oppure crusca o farinaccio questo anche per apportare complessi vitaminici e poi acqua nuovamente fino a portare il l'insieme e la miscela a quella che viene definita la prova un livello di umidità è quella della prova del pugno dobbiamo miscelare questi ingredienti e le temperature alle quali arriveranno saranno supereranno soprattutto nei primi giorni i 60 gli 80 gradi perché il livello di fermentazione molto molto alto per questo deve essere controllato perché altrimenti quello che si rischia proprio è l'uccisione di tutta la parte microbiologica e quello che si deve fare man mano nei giorni è rivoltarlo per diminuire la temperatura e diminuire l'umidità il composto sarà pronto quando sarà completamente secco e freddo cioè freddo a temperatura ambiente di quante volte bisogna rivoltarlo mediamente guarda tendenzialmente i primi tre giorni due volte una al mattino alla sera poi dipende varia molto anche dalla zona dove lo stai facendo quanto a lungo e allora i primi giorni tu devi calcolare che non superi mai i 60 gradi quindi puoi abbassarlo fino ai 30 40 gradi e cioè fare in modo che arrivino a quella temperatura anche con la mano con la mano rapidamente ti rendi conto della temperatura comunque se vuoi lo puoi fare anche con un termometro se si fa in zone che sono parecchio fredde magari il primo giorno ci mette un po di tempo ad acquisire calore quindi meglio lasciarlo riposare un giorno finché parte la fermentazione e dopodiché si rivoltarlo il cumulo non deve mai superare il metro e venti perché il rischio se noi che si arriva a un livello anaerobico soprattutto nella parte centrale e quindi a un livello di putrefazione poi del della zona centrale e il compost non deve mai rilasciare cattivi odori o odori di ammoniaca e devi fare attenzione che non ci siano molte mosche che magari depositano uova eccetera perché se no vuol dire che è stato fatto qualcosa di un po sbagliato quindi poi i primi tre giorni tendenzialmente si rigira due volte al giorno dopodiché invece è sufficiente una volta soltanto poi poi i primi giorni arrivare a un metro e venti di altezza e man mano che passano i giorni abbassarlo di altezza però non farlo mai neanche troppo basso qua ho voluto mettere queste tre foto perché sono tre di tanti esempi di come può essere fatto il boccasci quindi in una forma casalinga artigianale con riesci a spalarlo tranquillamente a mano tra l'altro questo signore un inventore che adesso si è riproposto di inventare una macchina per rendere molto semplice un attrezzo anzi scusate per rendere molto semplice il rigirare il boccasci mi ha detto visto che ti ho vista che fai fatica ha capito che non ha dondina in agricoltura e quindi cercherà speriamo che per la primavera arriverà questo nuovo attrezzo rigira boccasci allo stesso tempo ci sono questa un'esperienza fatta in italia nelle marche in poi vedremo anche altre diapositive di questa stessa azienda dove hanno fatto diverse tonnellate di boccasci e quindi hanno utilizzato la ruspa per girarlo quest'altra invece è un'azienda in messico dove viene prodotto boccasci anche per la vendita e quindi quantitativi di boccasci che vengono fatti sono direi importanti questa macchina non è neanche la più grande ci sono delle macchine ancora più grandi è semplicemente una macchina attaccata a un trattore qua è stato messo un contropeso per fare in modo che il trattore non si ribalti e qua dentro ci sono dei rulli che rigirano il boccasci altri composti che si possono fare sono sempre con la fermentazione di altri residui aziendali questo un esempio di un'esperienza di cairo in ecuador dove lavora in un'azienda produttrice di rose quindi gli scarti delle rose sono molti e fanno questi cumuli di compost al quale cioè di scarti delle rose al quale viene aggiunto acqua con lievito e zucchero per facilitare la fermentazione e la degradazione delle stesse poi viene utilizzato come compost il cover crops dimmi qualità del lievito e qualità dell'acqua cioè per l'acqua c'è la problematica che se uno è costretto tra virgolette a usare acqua di rubinetto dell'acquedotto il livello del cloro tollerabile secondo te allora se uno utilizza acqua del rubinetto quindi clorata quello che conviene prenderla il giorno prima il cloro evapora evapora abbastanza rapidamente quindi magari se tu sai che il giorno dopo farai il boccasci ti riempi dei bidoni con dell'acqua magari la rigiri un po per facilitare proprio l'evaporazione del cloro e poi la puoi utilizzare essendo per il lievito si può usare anche del lievito madre ottenuto quindi riproducendo diciamo assolutamente o meglio il lievito di birra che c'è al fossare minerali è la stessa cosa a seconda noi abbiamo fatto in cioè la funzione del lievito è proprio soltanto quella del lo starter quindi l'idea cioè magari la pasta madre dipende anche a che livello di fermentazione a che punto è ci metterà magari un pochino più di tempo però non ci sono problematiche noi abbiamo fatto boccaci e anche biofertilizzanti sia con pasta madre sia con lievito di birra e i risultati sono stati buoni in entrambi i casi appunto un altro strumento che viene utilizzato è cover crops quindi l'inerbimento quello che prima tu mi domandava mi dicevi ho problemi delle infestanti no un qualcosa che si porta avanti come tecnica è quella della copertura totale del suolo con le piante che tendenzialmente desideriamo noi e questo ha diverse e moltissime funzioni le radici innanzitutto allora quello nel video prima hai lo diceva quello che si vede al di sopra della terra è una rappresentazione di quello che si vede al di sotto la stessa cosa succede con le piante nel momento in cui noi vediamo una pianta la pianta è la parte visibile da noi di della parte che c'è invece sotterranea delle radici ed è per questo che c'è anche un po e qua mi rifaccio a quello che dicevo della cromatografia una correlazione tra la profondità delle radici e la cultura in essere ho messo qua queste queste immagini perché ci permettono di capire come va bene consociazioni di piante diverse avranno a loro volta un insieme di radici diverse quindi la radice appunto fa un lavoro che sia fisico che chimico che biologico come gli anelli di le radici fanno dei solchi all'interno del suolo e quindi svolgono questa funzione di aratura con i cover crops che quindi è proprio l'utilizzo di alcune piante per la concimazione del suolo senza avere l'obiettivo poi della raccolta di quella pianta noi quello che vogliamo fare è sfruttare le radici in questo senso quindi tra per esempio negli olivi o nelle piantagioni o anche nello stesso orto eccetera se si riesce a mantenere una copertura di tutto quanto il suolo con piante di solito si consiglia in un primo momento di fare una semina di un 30 per cento di cereali 30 per cento di leguminose un 40 per cento di composite per vedere poi quali sono le piante che meglio si adattano a quel determinato terreno ci saranno radici che lavoreranno a diverse profondità ritireranno e allo stesso tempo rilasceranno minerali e nutrienti diversi e prima che vadano a sé prima che vadano a fiore noi le sfalciamo o meglio ancora lettiamo dopodiché vi faccio vedere un'immagine eccola qua è questa con questo e questo è un rullo che anche qua in italia si sta iniziando a da problemi sì perché abbiamo fatto una prova a metà ponte con il rullo per schiacciare le luminose e poi coltivare su dei meloni erano veramente dove è stato schiacciato a il terreno a noi è sembrato che fosse diventato troppo asfittico almeno ai tecnici che hanno seguito la prova io sono andato soltanto a vederla mentre dove c'è stato l'incorporazione invece sempre si partiva da viccia era monovarietale come copertura incorporazione incorporata ha dato migliori risultati perché evidentemente l'altrezza è troppo pesante e fa quell'azione di coricare diciamo la cover la copertura però nello stesso tempo per farlo bene deve schiacciare quindi la combattazione toglie ossigeno secondo quella che era niente di diciamo di provato però una sensazione che si è avuto perché lo sviluppo dei meloni non non andava io so queste sono prove che fanno a mozambone mozambone sul trondo l'hanno brevettata io credo che dipenda anche da da quanto lo devi fare un bel po capito per poi per poterlo allettare poi impedire anche diciamo la riemersione di nuovo della della vecce in quel caso là lo devi schiacciare per bene non è che ti posso dire insomma questa allora non niente di provate niente di scientifica niente di prova di campo fatto nella con i classici metodi insomma della ricerca scientifica una sensazione così a occhi era quella che la combattazione era eccessiva non lo dico ok certo non lo so perché esperienze che abbiamo noi invece con questi macchinari ci hanno dato ottimi risultati l'alternativa è quella invece dello sfalciare le piante prima che vadano assieme e però in precedenza le abbiamo bagnate con una soluzione di acqua zucchero e lievito questo per permettere poi la degradazione anche della pianta e della sostanza organica che tu lasci sul terreno non si consiglia mai l'integrazione della sostanza organica perché nuovamente rompi la struttura del suolo e il lavoro che stanno facendo le radici le radici rimangono all'interno del terreno ed essendo poi sostanza organica la quale tu hai staccato la parte superficiale poco per volta si decomporrà lasciando poi dei buchi che sono quelle che permettono l'ossigenazione del terreno e la creazione della struttura e dopo di che quello che appunto viene fatto è lavorazioni minime quindi cercare di non rompere la struttura del suolo con l'obiettivo di arrivare a un certo punto magari a quella che è la semina su sodo in questo momento risulta ancora molto molto difficile quello che succede con questi macchinari per esempio questo è un macchinario che fa diverse operazioni allo stesso tempo è lo stesso di questa se noi vediamo perché davanti c'è il rullo dietro abbiamo questa parte che sono delle lame che lavorano il terreno nella parte sotterranea a una profondità minima e poi con questo questi sono direttamente seminatori quindi si semina direttamente quindi con un unico passaggio della macchina riesci a fare tre operazioni certo assolutamente poi dopo ne vedremo le altre dove c'è anche la possibilità del fertilizzante fogliare in messico hanno fatto messico in australia mi sembra non mi ricordo neanche dove però in altri posti hanno fatto macchinari che riescono a svolgere sette otto funzioni con un solo passaggio questo chiaramente ti dà una serie di benefici no che quindi sono il risparmio in carburante in ore di lavoro e anche la diminuzione della compattazione del terreno per passo una volta sola al posto di passare sette volte biofertilizzante fogliare e soluzioni minerali allora il biofertilizzante è quello appunto è un riprodurre quelli che sono i microorganismi anaerobici presenti all'interno della pancia della vacca quindi si può fare sia con sterco di vacca fresco oppure con microorganismi nativi ai quali consociamo tutta una serie anche lì di elementi che sono nuovamente lo zucchero noi abbiamo recuperato lo sterco di vacca fresco e che ha tutti i microorganismi e i lattobacilli presenti all'interno dello stomaco e dell'apparato digerente delle vacca è meglio ancora se si riesce a recuperare il contenuto ruminale della vacca si può? sì dopodiché gli si mette lo zucchero per nutrire i microorganismi lievito per far partire la lievitazione la fermentazione scusatemi acqua siero o latte per arricchire in proteine e in lattobacilli cenere e altri minerali e anche qua possiamo decidere di arricchirlo con dei minerali specifici cioè ci sono delle colture che hanno bisogno di alcuni minerali in particolar modo quindi noi possiamo studiare si può fare uno studio su quelle che sono le esigenze particolari di determinate piante e quindi poi dare un biofertilizzante specifico per quella determinata coltura o allo stesso tempo può succedere che in un suolo ci siano dei minerali bloccati e che si riescono a sbloccare attraverso altri minerali così questo è un po' il modo per poter giocare con i minerali che possono essere messi all'interno del biofertilizzante mettendo i minerali all'interno di questo bidone i microorganismi saranno in grado di chelarli e quindi noi quello che faremo è poi dare i minerali già chelati e quindi disponibili per le piante nel momento in cui questo preparato lo facciamo con i microorganismi nativi che sono quelli che abbiamo fatto prima quindi li abbiamo estratti ormai dopo il mese di fermentazione mettiamo gli stessi ingredienti facendo attenzione a non mettere lievito perché è già presente all'interno dei microorganismi nativi del bosco i lieviti sono dei microorganismi e nei microorganismi locali ci sono già e poi se aggiungiamo dei minerali conviene aspettare un paio di giorni quindi si fa partire la fermentazione che sarà una fermentazione molto più bassa rispetto a quella fatta con lo sterco di vacca si lascia partire per i primi due o tre giorni e dopodiché lo si può aprire, aggiungere minerali e aggiungere un altro po' di zucchero o melassa questo mi permette di chelare nuovamente i minerali due domande ma è un ripiego quello dell'uso di microorganismi nativi nel caso in cui non si trova sterco di mucca fresca o è sempre preferibile mettere lo sterco? no, non è detto sono due cose diverse sono due cose diverse che possono essere sia complementari che sostitutive dipende anche un po' da quelle che sono le risorse a te più disponibili e poi quello col quale ti trovi meglio io personalmente ho provato entrambi e preferisco utilizzare quello con i microorganismi del bosco c'è chi invece, cioè chiaramente se uno ha le mucche nella sua struttura gli risulta più semplice e più utile utilizzare quello ci sono altri biofertilizzanti che si possono fare anche magari con la zucca con le zucche, con gli arancioni cioè di alternative io quelle che sto portando qua sono soltanto alcuni piccoli esempi poi di alternative sono molte quello che dicevamo prima, cerchiamo di capire qual è la risorsa per te più economica più semplice da reperire e quella che ti funziona anche di più a molte persone dà anche fastidio l'odore del biofertilizzante fatto con lo sterco di vacca adesso si può fare anche, si possono fare entrambi i biofertilizzanti e una volta che il biofertilizzante di microorganismi è pronto si possono estrarre i microorganismi e metterli all'interno cioè la parte del sottobosco fermentato e metterli all'interno del biofertilizzante è stato fatto con lo sterco di vacca e sta in microorganismi molto aggressivi nei confronti di alcuni batteri che provocano odori riusciamo poi ad avere anche un biofertilizzante che non genera questo problema del cattivo odore che spesso ho visto inibisce un po' i produttori la reperibilità dei minerali singoli parliamo di ferro, calcio si acquistano si acquistano allora li puoi acquistare sotto forma allora di solito li vendono sia in buste che in bidoncini esistono quelli già completi con boro, zingolo, in forma chelata no, esistono quelli lì che sono quelli che trovi nelle farmacie agrarie poi invece in alcune specifiche cioè riesci a ottenere il minerale puro che ha una resa molto superiore e quindi poi ti diminuisce, ti abbatte moltissimo i costi e risulta essere anche molto più efficiente e più efficace poi ci sono sempre le alternative anche lì diciamo impariamo dai nostri nonni cioè quando c'era una carenza di ferro su una pianta i nonni inserivano anche il chiodo in quel punto specifico in cui passava la linfa dove c'è la diramazione eccetera in questo modo la linfa della pianta direttamente si piglia il suo chiodo puoi pensare di utilizzare ai dei ferri arrugginiti e non riesci a trovare il ferro e vuoi farti un biofertilizzante arricchito col ferro utilizzi quelli, li metti dentro e in un qualche modo riesci ad ottenere cioè le alternative che puoi, magari il quantitativo che devi mettere è più alto attendere un pochino di più però ci sono diverse alternative per quel che riguarda i minerali in un primo momento anche noi abbiamo avuto un po' di difficoltà nel reperirli bisogna fare magari un pochino di ricerca adesso tutto quanto risulta più semplice come ONG anche cerchiamo di facilitare i contatti per poter reperire queste cose per esempio per quel che riguarda la cromatografia ci si è resi conto che reperire quelli che sono i materiali di base per poterla fare risultava abbastanza lavorioso per le persone per questo abbiamo creato una sorta di kit che può essere spedito per chi dice va bene mandatemi questo con le indicazioni io posso farmi la cromatografia questo è un po' come un servizio che viene fatto poi la cosa è anche dire tra i diversi produttori che iniziano a utilizzare questi preparati scambiarsi le informazioni scusa un'ultima cosa per chiudere ma quando si distribuisce si distribuisce generalmente sulle foglie questo in che modo arricchisce il terreno oppure si fa una distribuzione che va dal suolo verso... Allora no, noi lavoriamo a diversi livelli quindi il suolo cerchiamo di arricchirlo col Bokashi o con gli altri compost preparati di cui abbiamo parlato prima i cover crops quindi la sostanza organica che lasci e che dai direttamente al terreno col biofertilizzante fogliare noi fertilizziamo la pianta direttamente dopodiché ci saranno dei residui che cadono anche sul suolo e in questo modo fertilizzi anche il suolo e c'è chi utilizza il biofertilizzante anche nella fertilizzazione da degli ottimi risultati e le persone che lo stanno utilizzando sono estremamente contente secondo il mio punto di vista è un po' uno spreco cioè ha più senso utilizzare il biofertilizzante fogliare direttamente sulla pianta e cercare di arricchire il terreno invece con degli elementi che sono più consistenti e più solidi e che quindi ti aiutano di più a creare la struttura del suolo e non una fertilità più aerea non semplicemente questo non so se ti ho risposto allora le soluzioni minerali ce ne sono diverse e svariate quelle che abbiamo visto che vengono utilizzate di più sono quelle a base di zolfo e calce che serve per controllare allora lo zolfo ha un sacco di proprietà è un minerale che è un minerale alla base della creazione della vita è un rigeneratore cellulare quindi quello che si fa con una soluzione di zolfo e calce la calce serve a rendere disponibile cioè che il calcio assieme allo zolfo essendo esposta a calore entra in fusione e rende disponibile lo zolfo per le piante con questo noi quello che facciamo è nutrire la pianta e non è che combattiamo delle malattie qua mi rifaccio a quello che dicevamo prima se io ho una pianta nutrita sana forte e in equilibrio è difficile che insetti o malattie arrivino ad attaccarla quindi lo zolfo essendo uno degli elementi di base della vita tendenzialmente serve per nutrire le piante quindi ecco ecco Siamo tornati? Va bene, appunto lo zolfocalcio è un preparato molto molto semplice, è in commercio perché lo vendono anche ed è chiamato polisulfuro di calcio. Il polisulfuro di calcio che abbiamo trovato noi in commercio ha delle percentuali di zolfo molto minori rispetto a quello che possiamo autoprodurci e ha un costo chiaramente molto più elevato. Dopodiché un altro composto che utilizziamo molto è quello a base di cenere, quindi si rende solubile il silicio presente nella cenere attraverso il sapone e poi vengono utilizzate, vengono fatte altre soluzioni minerali di vario tipo. Un altro per esempio che si utilizza molto per il controllo dei funghi è per esempio una soluzione di bicarbonato e di sodio. È molto molto semplice perché è acqua e bicarbonato. Questo che cosa fa? È semplicemente cambiare il pH che è un fungo per potersi sviluppare ha bisogno di un determinato pH. Nel momento in cui tu gli cambi l'ambiente e il pH dove lui si può sviluppare smetterà di espandersi. Come questi ce ne sono molti, però vi dico, lo sapete anche molti di voi che sono già in contatto con l'agricoltura organica per poter vedere tutti quelli che sono preparati. C'è bisogno di almeno un paio di giorni, due o tre giorni di formazione. Qua ho messo perché delle fotografie semplici di qualche biofabbrica, tanto in America Latina come anche in Italia si sta iniziando a portare avanti. Si lavora perché spesso ci dicono che l'agricoltura organica è soltanto per i piccoli appezzamenti e la risposta è no. Con l'agricoltura organica si può lavorare tanto su appezzamenti di pochi ettari, un ettaro, mezzettaro l'orto o di casa, come con appezzamenti invece di migliaia di ettari. Per questo ho voluto mettere queste fotografie dove possiamo vedere questo qua, per esempio dove producono le rose in Ecuador. Qua è il principale produttore di rose che esportano rose per la Russia e questo invece è il principale produttore di banane. Potete vedere questi bidoni confrontati alle dimensioni delle persone, sono dei bidoni dove viene fermentato il biofertilizzante. Loro il biofertilizzante lo applicano direttamente con gli aerei. Loro il biofertilizzante. Cenere del legno, dei camini, del panettiere... Cenere di legno. Sì, tendenzialmente evitiamo, cioè cerchiamo di sapere di che legno, cioè non di vernici, non di monnezza, non di incerenitori, no, cerchiamo cenere di legno. Sì, esatto. Può essere di olivo, per gli olivi, anche in ogni posto si utilizza della legna diversa, nei camini e così via, quindi dove te la puoi procurare? Sì, di origine tendenzialmente, cioè, certo, sì, niente. Vabbè, questa invece è appunto la società agricola Coste del Sole che sta ad Ancona, che loro stanno mettendo in pratica le tecniche dell'agricoltura organica e stanno anche, adesso poi vi farò vedere, del Keyline. Questo utilizzo di macchinari appropriati per l'azienda, quindi eliminiamo l'aratura e l'utilizzo di altre tecniche per la costruzione del suolo. Siamo cresciuti con l'idea che arare è indispensabile per rendere morbide e lavorabile il terreno. In realtà quello che noi facciamo arando è distruggere quella che è stato il lavoro di costruzione del suolo. Se pensiamo a come vengono fatti i mattoni, possiamo renderci conto che in realtà arando noi stiamo costruendo mattoni. Quindi rendiamo polveri, rendiamo più piccola, sbricioliamo la sostanza, la crosta della terra. Chiaramente nel momento in cui è più fine diventa più compatta e poi esposta all'acqua e al sole si compatta ancora di più e si creano delle zolle durissime, che è proprio il principio del mattone. Questo è l'aratro giovans del quale ti parlavo. Questo è un disco superficiale che serve per fare un taglio nel terreno. Questa parte invece entra all'interno del terreno. Qua c'è una lama che anche questa taglia il terreno esattamente in concomitanza con questo disco. E qua sotto, questo è un dettaglio di come funziona questo aratro, che ha un movimento oscillatorio sia, oltre ad avanzare, si muove anche in questo senso. Quindi lavorando al di sotto della terra, lui smuove la terra dal di sotto, la taglia, quindi non distrugge la struttura, ma semplicemente la rieggia e la rende più morbida, più lavorabile. L'aratro giovans è stato brevettato. Nonostante questo c'è chi se lo autoproduce. Queste sono invece altri macchinari che vengono utilizzati e con i quali vengono svolte diverse funzioni. Questo è quello che ti dicevo che appunto fa sia la parte dell'aratura tramite l'aratro giovans e poi dal biofertilizzante. Allo stesso tempo dietro richiude il solco. Questo invece è un macchinario che si utilizza qua in Italia. Probabilmente quello di cui stavamo parlando questa mattina. E comunque sia è fatto nello stesso modo, cioè sono tipo delle punte come queste che tagliano il terreno, lo lavorano da sotto e poi ci sono i vari rulli eccetera e qua dietro lo chiudono. Questo è quello che abbiamo visto prima per allettare le piante. Dopodiché, vanno benissimo le osservazioni e poter dire che questi macchinari funzionano alla perfezione in tutti i posti non ha un senso, perché avrebbe e sarebbe un po' un controsenso con tutto quello che abbiamo detto fino ad ora. Tu mi hai detto che questo qua non funziona. Chiaramente bisogna vedere la condizione iniziale del terreno, come stava e come è stato utilizzato, quando eccetera e poi come sarà l'evoluzione anche di questo terreno. Noi dobbiamo pensare che per costruire un centimetro di suolo in natura ci vorrebbero centinaia di migliaia di anni. Quello che noi cerchiamo di fare è accelerare la fase di creazione del suolo. Comunque sia avere un minimo di pazienza risulta una buona pratica. Questo è quello che vi dicevo delle sistemazioni idriche attraverso il disegno Keyline. Qua ho riportato proprio un grafico di un disegno Keyline che è stato fatto nella società agricola Coste del Sole. E potete vedere com'è il risultato. Quindi il macchinista che si occupava delle lavorazioni nel momento in cui Matteo gli dava le indicazioni, metteva i paletti su per indicare come dovevano essere fatte le curve, li ha presi per pazzo Matteo e i proprietari dell'azienda e delle Coste del Sole. Però l'idea è proprio qua cercare di capire e disegnare i vari modi in cui si vuole far circolare l'acqua. Quindi noi capiamo dove è la fonte dell'acqua, come scivolerebbe naturalmente e disegniamo le solcature e le lavorazioni in modo tale che ci sia una distribuzione ragionata e pensata dell'acqua in tutto il terreno. Allo stesso tempo viene diviso il terreno con diversi tipi di colture, e poi si lavorerà chiaramente sulla rotazione e la consociazione. Questo viene fatto... Vabbè, qua ci sono diverse pendenze. Vedi? Questo è fatto così e quest'altro invece così. Questi sono compluvi e qua sono dei... Sì? No, no, proprio nell'appezzamento che vediamo in fotografia. La pendenza ovviamente è da salire sopra e scendere giù alla foto. Sì, in questo caso qua sì, sta scendendo così. Ma è la stessa cosa degli swale che usano per la permacultura? Non saprei. Quelli sono un po' più profondi, sì. Può darsi, quella non la conosco. Però viene fatto con uno degli attrezzi che ci hai mostrato prima. Sì, vengono utilizzate... Quindi praticamente soltanto le curvature del trattore che cambiano. Esatto, cambia la curvatura del trattore, cioè viene eliminata la ratura profonda, si cerca di utilizzare la minima lavorazione e in più viene fatta proprio il disegno di questa lavorazione. Ma siete partiti con la non lavorazione? Questa è un'esigenza che è nata dopo? No, questi qua, cioè tra l'altro loro facevano convenzionale... Lo dico come obiettivo principale che vi ponete è quello della non lavorazione completa. Allora, si vorrebbe arrivare. In questo momento non si riesce. I terreni sono troppo ancora? Ancora troppo. Cioè l'obiettivo è quello di cercare di arrivare proprio al semina su sodo, alla non lavorazione completa. Esatto, per ora ancora no, però sì rispetto a prima è stato diminuito moltissimo l'uso di macchinari e la profondità di lavorazione. Cioè ormai nel momento in cui uno vede in giro i livelli e le solcature che vengono fatte nei terreni arati e si vede che mano a mano si va sempre più in profondità perché chiaramente tu compattando... Esatto, c'è un video sul sito agricolturaorganica.org, sempre lì in agromedia, in video. C'è un video molto semplice, molto didattico di un esperimento che si può fare anche con i bambini e che rende molto chiaro e chiaramente quest'idea sia della copertura del suolo sia della polverizzazione per quanto riguarda anche la ritenzione dell'acqua. Invece come prima volta, noi sempre per il problema di questa infestante che ormai ha raggiunto profondità radicali non indifferenti, quindi ci ha coperto quasi tutto il suolo che è 20-25 anni che non viene messo in coltura, avevamo pensato solo come prima azione di fare una ratura profonda per andare a prendere più radici possibili, è sconveniente? Guarda, come cosa a livello di logica io ti direi la ratura profonda è comunque sia una distruzione profonda che tu fai e che poi per poter recuperare questa ferita c'è bisogno di parecchio tempo. Si potrebbero, credo, studiare delle tecniche alternative. Questa è una domanda abbastanza tecnica, non me la sento di darti una risposta precisa e quindi... Non soffrirò dai vostri tecnici. Esatto, chiederemo ai nostri tecnici in modo tale... Io ti direi che nel momento in cui tu fai una ratura profonda comunque sia il lavoro che c'è stato di costruzione del suolo seppure con le infestanti, con queste infestanti c'è stato un lavoro di 25 anni in cui il terreno non si è mosso tu glielo distruggi. A me verrebbe da dire cerca proprio di toglierli e iniziare a pensare di lavorare con cover prof. Dico proprio al limite, al limite, al limite è preferibile usare il glifosate, proprio al limite. Cioè fa meno impattante rispetto a una ratura molto profonda. Guarda, ci sono delle immagini sulla... C'è gente che semina sul sodo usando anche glifosate che non si dovrebbe usare, aumenta la sostanza organica ugualmente. La semina sul sodo che si sta facendo in Italia e in molte parti del mondo è spesso consociata all'uso di diserbanti. La qualcosa è devastante. Bene, quindi ti do un secondo. Eccolo qua. Guarda, questo è l'effetto... Stavo soltanto mettendo sulla bilancia sarebbe impossibile coltivare ortaggi con quella infestante là. Te la posso già garantire perché è la cannuccia. No, infatti secondo me... Mettere sul piatto della bilancia le due tecniche in alternativa. Sì, io credo ci siano delle altre alternative. Una sola volta senza farla appoggiare sul terreno. Cioè direttamente sul, se possibile, nebulizzato sulle piante in piena feritura. Cioè voglio dire... La tecnica, come dice Iairo, non è da... Però era giusto. Allora ti dico, per quello che ti direi io l'erbicida proprio mai. Cioè piuttosto cercare una lavorazione fisica, meccanica per eliminare quello e non pensare di fare ortaggi soprattutto nel primo periodo. Bensì magari pensare a delle colture che possano andare in sostituzione e che possano andare a essere più resistenti dell'infestante. Aumentando, cioè io ti dico, quello che consiglia sempre Iairo è aumentare nel momento in cui semini aumentare di tre volte la quantità, da tre a cinque volte la quantità e la densità dei semi. Probabilmente... Ma questo farlo in concomitanza con questa pianta con cui vogliamo competere perché la strategia di riproduzione di questo particolare tipo di piante di cui non ricordo il nome scientifico io la chiamo... La canizia. Esatto. E' proprio quella che se avvenisse uno sfalcio andrebbe a riprodursi... Esatto. Sparulando tutto attorno. Guarda, allora facciamo questa domanda così specifica, la riportiamo... Sì, credo di sì. Io quello che mi sento di dire è che questi sono i risultati. Quello sulla sinistra è un suolo al quale non è stato applicato un erbicida e quello sulla destra dopo essere stata trattata con l'erbicida con le quantità consigliate dall'azienda. Dopodiché vedremo... Guarda, se vuoi te lo lascio e te lo sfogli un pochino. Vedremo com'è l'interpretazione del suolo, però... No, mi sono pensato che io la faccio una volta la settimana in agire questa notte. Che cosa? Il mio lavoro. L'orco. Va bene. Forse è un po' di sottratto. Ok. Poi vabbè, poi cercheremo delle alternative, però... Comunque sì, è il risultato più o meno... Però, va bene, io direi che proprio l'erbicida mai, mai, mai... Né erbicida né fungicida. Cioè, tutti quelli che sono... Cioè, riuscire... Poi si recuperano, eh. Suoli... Adesso vi farò vedere un esempio di un suolo che Jairo ha recuperato, di un terreno che Jairo ha recuperato nel giro di un anno e che era stato... Era un pascolo intensivo sottoposto da più di 30 anni all'uso di erbicidi, eccetera, eccetera. Quindi, tutto si può recuperare. Però se ne sappiamo che già andremo a distruggere, cerchiamo di evitarlo a priori. Sì. Ma la prima semina che fa, diciamo, il tecnico dell'agricoltura organica che si trova, la fa direttamente su sodo, su suolo, oppure... No, sul sodo... Sembra un minimo di lavorazione. Sì, minimo di lavorazione. Su sodo, per ora, non... Cioè, siccome parlavo di 5-6 volte superiore la quantità necessaria, pensavo fosse lo scopo quello di... Guarda, in America Latina ci sono dei posti dove si riesce a fare semina su sodo. Però anche lì, in terreni che sono stati lavorati da un tot di anni in un determinato modo. Per quel che riguarda, invece, la prima semina, no. Cioè, abbiamo queste tecnologie, poi dipende sempre. Se uno deve farsi un appezzamento piccolo, fa una zappettatura superficiale e cerca di lavorare in quel senso, cercando di costruire suolo. Quello che fai mettendo poi boccasci, arricchendo il suolo, eccetera, eccetera, sarà lo stesso suolo ad aumentare e a crescere il livello, poi, di possibilità di lavorazione. Adesso vi farò vedere delle foto. Forse qua non l'ho messa, però ci sono delle foto del terreno di Cairo, che volendo poi le passiamo, dove lui, dopo un anno, se in un primo momento il terreno era completamente compattato, non si riusciva a rompere, eccetera, adesso, dopo un anno, le lattughe o le verdure le prende, le estrae e escono con una radice e tutta la terra attaccata e la dimensione è questa. Tu l'avevi visto, vero, la fotografia? Ed è quello, vuol dire, che stai oggettivamente costruendo suolo. vabbè, queste sono un po' di esperienze in America Latina, dove c'è produzione di ortaggi che sono degli ortaggi direi belli e spesso ci viene richiesto e domandato dicendo vorrei dire che hanno una presenza di azoto ah tu l'avevi richiesto molto molto alta e in realtà così non è perché noi sono stati fatti delle analisi che dimostrano che la percentuale di azoto libero è presente sia nei compost che nel terreno che nei biofertilizzanti è molto più bassa rispetto a tutti quelli che sono gli altri fertilizzanti eccetera quello che capita è che si aumenta oggettivamente la biomassa e questo è stato dimostrato anche da un'esperienza di produttori di avocado che stanno nella zona a nord di città del Messico e Michoacan hanno un'estensione di produzione di avocado impressionante loro erano convenzionali dopodiché hanno trasformato una parte del dei loro avocado biologico certificato e continuava a non essere sostenibile la loro produzione e dopodiché sono passati invece all'organico quindi hanno eliminato la parte della certificazione riescono a produrre di più a dei costi di produzione inferiori e in più il peso il peso degli avocado è aumentato moltissimo questo è successo anche con le rose quindi a parità di dimensione il peso specifico del frutto prodotto con l'agricoltura organica è nettamente superiore rispetto a quello prodotto con l'agricoltura convenzionale questa è un'esperienza a produzione di sedano questo è interessante perché sono delle vallate delle montagne sempre in America Latina che erano state completamente disboscate per il pascolo intensivo e sono state completamente ricoperte invece da produzione agricola e vabbè mettono cartelli in cui dicono che non usano veleni agrotossici non insistete non venite questa è un'esperienza di cui vi ho parlato prima interessante scusate sulle rose no Jairo qua lavora in Ecuador in sono delle serre di produzione di rosa erano state creati dei suoli di questo tipo dove veniva ritenuta la terra c'era un livello di umidità altissimo tant'è che erano arrivati a mettere ventilatori all'interno delle serre per diminuire l'umidità provocata dall'irrigazione che danneggiava le rose e giustamente Jairo ha detto vabbè al posto di mettere il ventilatore per diminuire l'umidità basterebbe diminuire l'irrigazione e in più creare le condizioni perché non ci sia ristagno di terreno di questo tipo perché inoltre a livelli di umidità così alta nel terreno si creano anche proprio delle condizioni che sono nocive e insalubri per le piante qua si può vedere come era compattato il suolo ha iniziato a lavorare con la copertura del suolo quindi togliendo questa parte cercando di livellare tutto quanto e iniziando a lavorare anche all'interno delle serre con la copertura totale del suolo e per rendere in più produttivo anche la copertura ha consociato alle rose ortaggi quindi questo produttore adesso oltre a produrre rose produce ortaggi questo è il risultato qua vediamo ci sono i fagioli consociati alle rose barbabietole consociate alle rose e poi la copertura nei filari questa è l'esperienza che vi dicevo di Cairo questo è un terreno che è stato comprato un anno e mezzo fa era si era esattamente giugno non giugno luglio non di quest'anno dell'anno prima osservate va bene questo era un pascolo intensivo completamente scoperto e sono stati utilizzati anni e anni di erbicidi e questo qua è l'unico alverello presente sul terreno questo è interessante perché è un lavoratore che lavora con 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 Cairo abituato ad utilizzare fertilizzanti e veleni ha chiesto a Cairo per piantare questa siepe lui lavora sempre con le siepi e al posto di fare recinzioni usa recinti verdi in questo caso questa pianta è un agrume che produce anche parecchie spine quindi ti serve parecchio come recinzione e questo lavoratore aveva chiesto a Cairo di portargli fertilizzanti e veleni Cairo gli ha detto guarda per quel che riguarda i fertilizzanti va bene te li do applica pure qua i fertilizzanti per i veleni esatto pensiamoci in un secondo momento dopo tre mesi si è messo invece Cairo a piantare da un'altra parte questo era su un lato del terreno Cairo invece ha lavorato su un altro lato del terreno piantando la stessa varietà di pianta però utilizzando fango e bokashi come concime questo è non so se si vede però questa è l'altezza della siepe piantata dopo tre mesi che ha piantato Cairo questa è l'altezza della siepe piantata dal lavoratore e questa invece è quella di Cairo non si vede vero? no e vabbè questo è il risultato finale questo dopo cioè questo qua è una foto che risale a più di sei mesi fa quindi in meno di un anno è riuscito a ottenere quella siepe questo vabbè ha ricavato all'interno del terreno anche un laghetto lavora per la copertura dei terreni per fare le terrazzature sia utilizzando dei sacchettoni ripieni di terra e una quarta parte di cemento nelle parti che non sono a contatto direttamente con le colture o con l'acqua e poi ricopre con degli strati di il prato che è stato staccato vedete che sono tipo dei quadrati di 50 cm per 50 cm poi ci mette uno strato di Bokashi e l'ultimo strato invece glielo mette dritto in questo modo riesce a riprodurre il prato in un tempo molto molto breve questo è il risultato vabbè anche se notate qua non c'era assolutamente nulla quelli sono i banani e la vegetazione che è cresciuta in poco più di un anno qua ho messo le foto queste era già dopo aver costruito il laghetto e aver fatto la diga eccetera e questa è la situazione invece non so se si vede anche questa qua risale a giugno di quest'anno questa è un'altra parte lì vedete che c'è un tettuccio ha fatto il vivaio e questo vabbè è un'altra parte quindi questo è come si può e si riesce a trasformare un terreno che nonostante sia partito da delle condizioni pessime diciamo che in un anno e mezzo si riesce guarda produce oggettivamente di tutto da ortaggi e sta vendendo già era molto preoccupato quando era qua in Italia perché c'era più richiesta degli ortaggi rispetto a quella che era la produzione sta producendo con il figlio la moglie e vabbè altri tre lavoratori questo è soltanto un ettaro di terreno e riesce a dare lavoro a tutte queste persone adesso stavano pensando di ingrandirsi perché gli ortaggi e la richiesta di ortaggi è molto molto grande in più nel vabbè produce banani negli ortaggi rientrano anche quelli che sono fiori jamaica tutta un'altra serie anche di piante che sono piante sia per infusi che per piante medicinali e ha fatto una parte di giardinaggio perché alla moglie piace molto la parte del giardinaggio fiori eccetera e come come non capirla si sono già riprodotti all'interno del lago un sacco di pesci e infatti lui fa scambi con altri produttori che vanno a pescare nel suo lago e gli portano in cambio semi e altre piante che lui utilizza per da piantare lì queste invece sono ho messo delle foto di qualche esperienza in Italia il GUS è il gruppo dell'umana solidarietà che sta macerata è una ONG si occupa soprattutto degli immigrati e dell'inserimento degli immigrati hanno preso un terreno sono tre ettari di terreno e all'interno nel centro del terreno c'è una casa dove stanno vivendo sono cinque immigrati che lavorano costantemente su quest'orto hanno prodotto parecchio vendono i loro prodotti e stanno iniziando a fare anche un po' di trasformazione formati quello che ci risulta e che risulta parecchio interessante di questa esperienza è come l'hanno lavorata quindi mantenendo pacciamatura in tutto tutti i tre ettari sono sono completamente pacciamati e ricoperti questa è paglia paglia che c'era lì nella zona e adesso poi vi dico un'altra cosa invece per quel che riguarda i cover crops che è una cosa interessante e poi la consociazione non so se si riesce a percepire però qua abbiamo bietole abbiamo leguminose qua di fianco ci sono i pomodori c'è un'estrema consociazione di tutti di tutte le colture no questo è un raccolto di patate che è tra le varie cose che sono state preparate questo è il disegno Keyline il mini montillage che è quello che dicevamo prima in un'altra azienda che si chiama Le Mezzelune e sta a Pieve Bovigliana Macerata sono 15 ettari di azienda e tutte quante le stanno lavorando così in questa qua vabbè si vede com'è la lavorazione e qua anche riusciamo a vedere come è stato fatto e quest'altra invece Coste del Sole quell'altra azienda di cui abbiamo visto il grafico prima sono un totale di 100 ettari hanno dedicato 20 ettari al disegno Keyline e di questi 25 ettari dove producono esclusivamente con agricoltura organica basta grazie per l'attenzione volevo dirvi per quel che riguarda il il cover crop soprattutto nelle aree dove si può lavorare a filari una cosa una cosa che suggerisce parecchio Jairo di fare è lavorare a diverse altezze quindi fare una rotazione anche sul livello di falciatura nel senso se se noi abbiamo tre filari uno di fianco all'altro l'ideale sarebbe riuscire ad avere su un filare la sostanza organica completamente allettata quindi a un'altezza praticamente del suolo un'altra a un'altezza intermedia quello del filare intermedio e la terza invece alla sua massima altezza e poi andare avanti in rotazione quindi man mano che la prima crescerà la seconda la azzereremo e così via l'altro giocando sui tempi di giocando sui tempi di semina e di e di sfalcio oppure puoi anche fare sfalci diversi questo perché riesci a creare e a ricreare gli habitat dell'ambiente del clima dell'umidità necessaria alla riproduzione di diversi insetti e microorganismi che si sviluppano a diverse altezze rispetto al suolo va bene lamierdadevacca.com e il sito di cairo dove c'è caricata anche lì ci sono un po' parecchie fotografie di esperienze in america latina e non soltanto il nostro sito agricolturaorganica.org e continua a essere purtroppo un po' in costruzione abbiamo qualche problema con col grafico che ha avuto un po' di difficoltà però promettiamo che presto sarà pronto avete domande o considerazioni una una è che siamo solo qua d'altra parte una discussione che è sempre in corso è quella dell'abbinamento fra agricoltura sinergica e altre tecniche diciamo per quello che è la mia esperienza io ho provato a fare sto provando a fare del sinergico cercando di portare avanti il concetto di zero lavorazione nel suolo e questo lo consente soltanto il sinergico perché parte da bancari precostituiti per cui c'è un passaggio una zona dove si passa una zona dove si coltiva quindi sul bancale praticamente rialzato non si cammina mai non si ramora mai eccetera eccetera vabbè non ti faccio la somma di tutto quello che ho fatto a partire da 13 mesi fa come gli ari per questo dicevo lui i risultati li ha raggiunti io timidamente ci proverò però c'è questo approccio demagogico per cui si dice che per quello che concerne il sinergico non si fa niente nel senso che si lascia il terreno lavorare per fatti suoi vabbè io ho fatto una copertura con delle miscele praticamente specifiche biodinamiche che sono circa 27 specie però in prevalenza sono trifogli con vecce quindi leguminose che ho sfalciato per 13 mesi che adesso praticamente il terreno nel primo strato è trasformato ovviamente se si portano concimi che sono altamente solubili che fosse anche l'etame diciamo di mucca cavallo ben decomposto che comunque c'è la sua solubilità oppure a maggior ragione portando dei concimi chimici che sono altamente solubili io in qualche modo il terreno lo degrado però dico l'abbinamento fra organico diciamo è intuito non sono un tecnico del settore è sinergico cioè secondo la tua esperienza è possibile perché noi portiamo microrganismi che non fanno altro che arricchire il sole e non lo degradano mai è conservativo che fosse i bocashi oppure che fossero i fermentati in ogni caso diciamo cioè non ci sono controindicazioni le due tecniche cioè secondo me si sono sviluppate perché si prende il vantaggio di una che il terreno non si tocca mai e ce l'hai rialzato e quindi c'è un suolo già sempre attivo e l'altro perché comunque io aiuto cioè in qualche modo la fertilità si raggiungerebbe sì però si raggiungerebbe diciamo una piena fertilità nel giro di tre anni quattro anni io già al primo anno con l'aiuto di bocashi o altri preparati l'importante è che la verdura che ottengo non c'ha nitrogeni dentro certo non lo so dimmi la tua assolutamente sì guarda ti dico a me sembra demagogica questa storia del lasciare il suolo a se stesso vabbè sicuramente il suolo a se stesso lasciato a se stesso fa il suo lavoro ma in quanto tempo noi siamo umani no la cosa la cosa fondamentale la cosa è che spesso si vogliono dare delle definizioni alle tecniche no? quindi i sinergici io mi definisco sinergico e da qua non mi muovo no? poi c'è quello che fa permacultura e allora faccio permacultura e non provare a dirmi che faccio sinergico perché io faccio permacultura oppure adesso testo il biodinamico non ne parliamo oppure l'agroecologia eccetera sono tutta una serie di definizioni pratiche che sono più che valide che funzionano che danno i loro risultati ma che allo stesso tempo se uno si blocca dietro a quella che è l'idea della definizione dire io non mi muovo da qua perché fare agricoltura sinergica mi impedisce di muovere di fare assolutamente nulla è un dire ok non sto capendo perché io faccio determinate cose invece ci può essere una logica il sinergico il sinergico è anche tanto il lavoro lo dice la parola stessa in sinergia in sinergia tra diverse piante l'idea di non muovere il suolo ci sono la copertura costante eccetera eccetera dopodiché nulla ti vieta di continuare a non muovere il suolo di mantenere la copertura di utilizzare cover crops e quelle che in come si chiama in spagnolo vengono chiamati lo sabono sverde che sono le concimazioni verdi che è la stessa cosa il cover crops e allo stesso tempo per esempio arricchire il suolo con del bokashi facendo magari semplicemente un buchetto di fianco alla pianta mentre sta crescendo può essere o con lo stesso trapiantatore oppure con degli attrezzi che ti puoi costruire a tuo piacimento però il bokashi essendo appunto un compost non maturo e prefermentato ha senso metterlo sotto terra in modo tale che ci sia un minimo di copertura direttamente del suolo Cairo porta sempre l'esempio dice è un po' come se tu mangiassi cioè quando tu devi mangiare apri la bocca inserisci il boccone per poterlo masticare e chiedi la bocca se rimani con la bocca aperta non riesci esatto questo è un po' per quello che riguarda il bokashi dopodiché anche lì ho visto fare sinergico con l'idea di fare una pacciomatura e dire guarda io ci metto questo di pacciamatura e spero che la pacciamatura mi dure il più tempo possibile perché non voglio rifare il lavoro di pacciamare no? cioè è una cosa e tanta gente pensa a questo e invece l'idea è esatto e quindi cercare di facilitare la degradazione della sostanza organica con delle miscele che sono molto molto semplici che è tipo l'acqua lo zucchero e il lievito no? quindi tu glielo metti sopra e bon le tecniche dell'agricoltura cioè il sinergico chiaramente lo puoi fare su delle estensioni che sono abbastanza limitate quanto hai di sinergico? sono 8 pagari di 33 metri 8 6 metri in quadra e certo è già qualcosa però parlare certo però parlare di sinergico su estensioni di ettari diventa oggettivamente un pochino il più difficile si può invece pensare a sinergico inteso in questo senso del bancale no? e dove non si cammina dopodiché invece uno può fare sinergico anche su grandi estensioni lavorando proprio con le consociazioni con la copertura e il terreno come quello esatto quello che abbiamo visto lì c'è sempre tempo non so se avete altre domande curiosità come stiamo con i tempi se possiamo magari iniziare a introdurre la parte del della cromatografia se volete possiamo iniziare a presentare un pochino che cos'è lì c'è il libro e io ho portato qualche cromatogramma degli altri ce li abbiamo di là invece che stanno si stanno sviluppando che li abbiamo fatti giusto in questi giorni vi faccio girare questi qua volete fare dieci minuti di pausa c'è un posto tenete presente che abbiamo intenzione di fare una breve pausa tra la mattina e il pomeriggio in maniera tale da iniziare alle due due e un quarto e finire un po' prima potremo anche anticipare però insomma fare una pausa adesso e riprendere non ha senso potremmo potremmo terminare adesso e iniziare alle due sì pensavamo di andare a mangiare qua per andare a mangiare abbiamo adesso sto per dire una cosa col testo abbiamo Italy di fronte non lavoro per Italy però non lavoro per Italy però è la cosa più pragmatica e abbiamo il bar qui vicino che però è fuori ma all'interno della fiera è proprio qui sulla rotonda quindi per mangiare qualsiasi cosa abbiamo Italy un'oretta e alle 14 possiamo iniziare con il workshop pratico ok e lì introduciamo direttamente la cromatografia come ma per fare la pratica c'è un tre orette si iniziamo alle due e finiamo alle cinque sì esatto all'incirca poi dopodiché ognuno è libero eh ok dai anche un po' un po' il succo insomma sì cioè passiamo quella che è un po' la pratica cioè l'idea è quella capirlo un attimino che cosa stiamo facendo noi cioè che cosa si analizza con la cromatografia e qual è la tecnica per poterlo fare e dopodiché dare un minimo di infarinatura su quella che è l'interpretazione eh dopodiché se riusciamo a farlo in meno tempo però io credo che almeno tre una domanda vogliamo iniziare prima all'1.30 una domanda così cioè eh infatti se dobbiamo mangiare vabbè l'altra cosa è che se andiamo tutti quanti assieme torniamo tutti quanti assieme e sì Roma siamo qui sì 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 l'altra cosa Grazie a tutti